Continua l'imbattibilità in questo 2013 per il Crotone, che esce imbattuto anche dal San Nicola con qualche rimpianto. Infatti, dopo una prima frazione di gioco equilibrata, i Rosso-Blu hanno dominato nel secondo tempo, creando numerose palle da gol, ma un super la manna ha impedito ai Pitagorici di portare a casa l'intera posta in palio. Drago, oltre allo squalificato Pettinari, deve rinunciare a ben sette elementi tra infortuni e virus influenzali, ai quali si aggiunge all'ultimora anche il febbricitante Maiello. In avanti, spazio al tridente formato da Torromino, Calil e Gabionetta. Torrente risponde schierando i due ex Rosso-Blu, Ristoschi e Ghezal. Dopo soli sei minuti di gioco sono gli ospiti a creare un'ottima occasione. Torromino ruba palla a Ristoschi e appoggia per la corrente Gabionetta, ma il tiro del brasiliano termina a lato. In campo regna l'equilibrio e la squadra di casa mette i brividi a Caglioni soltanto al 34esimo, con Fedato, il cui diagonale termina di poco a lato. Pronta la replica Rosso-Blu con Migliore, che mette un'ottima palla al centro per la testa di Calil, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La seconda frazione di gioco si apre contro Romino che calcia al volo di destro su invito di Gabionetta, palla sull'esterno della rete. Poi è Delpeta a provarci di sinistro da fuori aria, palla alta sulla traversa. Al 54esimo colpo di testa di Ghezal che finisce di poco fuori. Da qui in poi in campo ci sarà soltanto una squadra, quella Rosso-Blu. Gabionetta scambia con Torromino, cross in mezzo e tiro di aramo di sinistro che termina alto. Al 57esimo Torromino, buona la prova dell'extreviso, si accentra e calcia, ma sulla sua strada trova una grande risposta di Lamanna. Sugli sviluppi dell'angolo successivo colpo di testa di Abruzzese con la sfera che va di poco fuori. Ancora Crotone propositivo, al 76esimo, Galardo mette al centro per Gabionetta, controllo e tiro, ma Lamanna si esalta e respinge. Drago manda in campo ciano per Gabionetta e gli squali continuano a schiacciare i galletti. Torromino fa fuori mezza difesa e serve all'indietro per Ermo che calcia di sinistro ma la palla esce fuori. A quattro minuti dal termine di nuovo Torromino pericoloso, con una gran conclusione da lontano, Lamanna vola e devia in angolo. Crisetic abbandona il campo per Crampi a due minuti dal termine, dentro Matute. Sul finale di gara la difesa di casa sbaglia il disimpegno, Ciano ne approfitta e mette al centro per Khalil, ma il suo tiro termina alto. Il signor Lapenna assegna tre minuti di recupero e c'è il tempo per registrare l'esordio con la casacca rosso-blu per l'ultimo arrivato, Gabriele Paonessa. La gara termina a reti bianche e con questo punto il Crotone si porta a quota 30 in classifica.